Gnocchi con pancetta affumicata e funghi. Vediamo insieme come preparare. In una padella mettiamo olio, aglio e peperoncino. Facciamo soffriggere e aggiungiamo tutti i funghi. A parte rosolate la pancetta affumicata per qualche minuto. Adesso sfumate con il vino bianco i funghi. Aggiustiamo di sale e facciamo evaporare il tutto. Per finire prezzemolo sminuzzato, amalgamare e quindi adesso mettiamo la maggior parte dei funghi in un frullatore. Unire la panna, quindi frulliamo il tutto. Sferite la cremina nella padella, aggiungiamo tutta la pancetta e amalgamare. Aggiustiamo di sale e quindi lessate in abbondante acqua salata gli gnocchi. Mescolateli direttamente in padella, quindi mescolate con un cucchiaio di legno e infine se volete potete mettere del parmigiano. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacione!